Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno litigato? La conduttrice ne ha parlato di recente nella sua ultima intervista. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno ballato insieme nello studio di Ballando con le stelle. Ma oggi in che rapporti sono? Hanno litigato? La conduttrice ne ha parlato recentemente al giornale Leggo. Leggi anche, Stefania Orlando e Barbara D'Urso, cosa è successo tra loro? Non è stato carino nei confronti di Barbara, ecco i fatti Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno litigato? Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno ballato insieme nello studio di Milli Carlucci, ma oggi a distanza di diverso tempo da Ballando con le stelle il loro rapporto sembra essersi esaurito. Ma perché? I due divi erano stati spesso associati a una vera e propria coppia anche nella vita reale, ma questo sembra non esser mai stato vero. Ecco le parole della Isoardi, Elisa Isoardi, poi, ha aggiunto che con Todaro ha sempre mantenuto un rapporto strettamente personale. Ma è davvero così? In tanti hanno fantasticato su un presunto flirt fra loro, anche se non c'è mai stata conferma da parte di nessuno dei due diretti interessati. Il ritorno in televisione Elisa Isoardi, comunque, accantonando la questione Raimondo Todaro, ha parlato anche del suo ritorno in Rai. La conduttrice infatti sarà protagonista della Domenica di Rai 2 con il programma Vorrei dirti che, in onda dall'11 settembre prossimo. Ecco cosa ha detto in merito alla nuova esperienza sul piccolo schermo, infine, se sul ballerino c'è stata un po' di reticenza, Sumara Venierla Isoardi ha detto, al momento, comunque, il nuovo coach di Amici di Maria De Filippi non ha detto la sua su quanto dichiarato dalla sua ex partner imballando con le stelle. Lo farà, e se sì, cosa dirà? Lo scopriremo presto. Seguici su Instagram cliccando qui. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!